Roma ormai la conoscono un po' tutti non solo in Italia sono molto contento di essere di essere qua perché comunque una bellissima città e l'impatto come dici tu forse non è stato i migliori però appena sono arrivato io è uscito il sole quindi è una bella notizia speriamo che questo sole possa risplendere tutto l'anno penso che il gap comunque quest'anno si è ridotto perché con il fatto che ci sono tre promozioni quindi due squadre andranno su dirette molte squadre hanno fatto dei roster competitivi anche in Girona Ovest allora Fabio mi conosce da quando veramente ero piccolo perché si parla di giovanili di Pesaro e lui allenava appunto a Treviso il roster ad oggi mi sembra molto molto competitivo i giocatori che ci sono sono veramente di ottimo livello a Treviso